bene ragazzi sono un po stanco alla fine ho cambiato tutte e quattro le ruote dell'auto cioè quelle davanti le ho messe di dietro e così via proprio perché quelle ne avevo una serie completamente consumate quindi quelle consumate le ho passate davanti ora chiamerò il gommista per farmi cambiare direttamente quelle anteriori quelle motrici torniamo a noi il discorso compressore e pistola pneumatica per i bulloni da dire le ruote il compressore devo dire mi mi risulta abbastanza veloce nel caricare aria praticamente quando scende a quanto sarà 7 7 e mezzo attacca e riporta il serbatoio a 10 bar la pistola per quanto riguarda la descrizione della scatola che diceva pressione di esercizio massima 6,7 bar è assolutamente errata la pressione minima di esercizio e 6,7 bar e vi dirò di più con 6,7 bar la pistola nemmeno si muove la pistola inizia a ragionare al di sopra degli 8 bar meglio se il compressore è carico a 10 perché se no non non ha nemmeno la forza per per mollare dei bulloni dei dadi da 19 mm ho dovuto penare per per mollare dei dadi che avevo chiuso con un'altra pistola infatti avevo già pronta l'altra pistola per fare il lavoro serio l'avevo già tirata fuori in più cosa vi devo dire che questa parkside ha iniziato a buttarmi olio da tutti i lati butta olio perde olio quindi quanto prima farò ovviamente valere la garanzia gliela vado a tornare correndo poi c'è sta gomma sto cerchietto qua stupido che se non cade si mette di traverso quindi insomma stiamo veramente giocando ora non ricordo quanto ho pagato questa parkside ovviamente si tratta di di utensili di utensili alquanto economici e si vede vi posso dire che io la metabo l'ho pagata meno di 100 euro ma li vale tutti anzi di più la metabo è spettacolare con questa parkside mi sono trovato veramente nelle beghe ecco non si tratta di non conoscere lo strumento di essere inesperti io con la metabo tra poco ci suono ci faccio le sinfonie con la metabo con questa purtroppo non stavo cavando un ragno dal buco e mi dispiace dirlo perché il compressore l'ho accolto in casa con un entusiasmo enorme proprio perché ha delle caratteristiche delle peculiarità descritte molto 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 buone è rapido a caricare a questo sistema di doppia uscita una delle quali a piena pressione l'altra è un uscita regolata si regola semplicemente con con una maniglia regolabile una maniglia girevole scusate di una semplicità disarmante poi c'è anche questo piattellone da davanti per avvolgere il cavo che è una cosa molto molto simpatica poi che altro vi devo dire a la la l'orribile esperienza avuta con questo aspettate che ve lo piglio scusate con questo coso ecco io non lo chiamerò coso non lo voglio nemmeno chiamare col suo nome di 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 prolungo non lo voglio dire ha una plastichina miserrima schifosa schifosa sembra il tubo della benzina del del 50 50 anzi no il tubo della benzina 50 50 era più meglio sembra il tubo della benzina di un gruppo elettrogeno cinese di quelli piccolini ecco le plastiche sono quello che sono cioè i giocattoli per bambini le automobiline quelle scadenti con di cui sono infatti scusate sono stanco le plastiche delle automobiline scadenti a pedali o elettriche per i bambini sono migliori e poi c'è sta cosa scandalosa vedete questo piattino girevole orientabile che va fissato alla parete che è scandaloso questo lamierino così come sono scandalosi questi queste vitarelle qua per regolarne la durezza per per bloccarlo veramente è assurdo assurdo questo qua mi si è quando l'ho collegato mi ha sparato l'attacco e per poco non mi ha preso in testa questo è partito a razzo e come un serpentello il dubbo ha iniziato a svuotare il compressore non ce l'auguro a nessuno cioè questi sono strumenti che devono servire ad aiutare il nostro lavoro renderlo migliore renderlo più facile e soprattutto renderlo più sicuro spesso nel supermercato si trovano offerte offertone a volte si fa anche qualche buon affare ma devo dire a malincuore che il più delle volte si prendono dei bidoni colossali ora l'unico vantaggio rispetto agli acquisti online è che se il supermercato vicino casa uno torna rispettosamente gli dice guarda che ho comprato una cagata pazzesca e niente ora questa sparisce dalla mia vista questo pure dobbiamo ancora provare testare 22 strumenti due utensili uno è un mini flex sempre ad aria compressa e una e l'altro è una piccola levigatrice sempre l'aria compressa li andremo a testare nei prossimi giorni con sempre con questo compressore vediamo che salta fuori anche così insomma utilizziamo il compressore vediamo come si comporta ok a parte il rumorino che vi dicevo che fa giusto 30 secondi prima di arrivare allo spegnimento per pressione massima raggiunta devo dire che il compressore si sta comportando bene bene ok bene ragazzi spero di esservi stati d'aiuto con questo è tutto per pena per pietà se mi volete mettere un like io me lo piglio e vi ringrazio iscrivetevi al canale e ci becchiamo nel prossimo video ciao